Rega prima che appunto il video abbia inizio vi voglio esortare a lasciare un like perché veramente rega questo è un qualcosa di assurdo questo video Non vi voglio spoilerare niente ma veramente credo che sia uno dei video che merita di più cioè uno dei video più belli che abbiamo fatto Quindi prima di lasciarvi al video vi voglio esortare a lasciare un like Se arriviamo a 100 like ho fatto il contest di 3 team of the season abbastanza costosi Noi appunto ci ribecchiamo Bella Andiamo ad aprire il pacchetto che appunto abbiamo vinto come potete vedere magari non lagga Che abbiamo vinto nel torneo Rega pacchetto 50k gratis Non mi è uscito ancora un toz oro in questa prima settimana quindi cercherò Rega spero di trovarne uno Andiamo ad aprire E vediamo che il giocatore più buono è Samba Con la lanza rega con la lanza Si Cazzo oddio ma che è Oddio rega Oddio Cazzo oddio Cazzo oddio Rega non ci credo Rega non ci credo Rega non ci credo Rega non ci credo Oh mio rega Non sono scambiabili Oddio rega Oddio Rega non ci credo Non ci credo Meno male che ho messo a registrare Regà non ci credo Non ci credo Oddio Regà non ci credo Oddio Con la lozza e il paio Nello stesso pacchetto regà Regà nello stesso pacchetto Non ci credo Mamma mia regà Grandissimo Tots Più in forma della madonna Guardate pure il paio quanto è forte Ma non ci credo Non è possibile Cioè meno male che ho messo a registrare Ho detto va mamma lo registro Può darsi che è come l'arma scorso che trovo qualcuno di buono In questo pacchetto Regà si Vabbacculo si Quindi Rendendomi Stiamo facendo mente locale Credo che Non lo so Questo video Non sia proprio Uno dei più complicati Più complessi Ma spero che Comunque vi piaccia Regà per questo Per questa reaction Per il fatto che mi sono usciti questi giatori In un solo pacchetto Regà Per arrivare a 100 like Voglio che questo video Arrivi a 100 like Se arriva a 100 like Vi porto il Il contest di 3 3 Tots Quindi regà Veramente Lasciate un like 100 like Cavolo regà Non ci credo Sto tremando Noi ci becchiamo ad un prossimo video Bella ragazzi Noi ci becchiamo ad un prossimo video